Siamo giunti alla ventesima edizione di questa rassegna, un libro sotto le stelle, una rassegna letteraria che vuole promuovere un poco la lettura e la magia delle parole. In un mondo dove tutto corre molto velocemente, dove le distrazioni sono in agguato, noi cerchiamo di dare alimento allo spirito e alla mente proponendo una lettura anche in un periodo di vacanza. Quindi noi ci rivolgiamo non solo ai lettori abituali ma anche ai vacanzini. Grande iniziativa culturale che si abbina anche a una promozione turistica del territorio, lo scenario da cui parte la prima parte della manifestazione che è quella del porto turistico di Salerno che consente di vedere dal mare il lungomare della città di Salerno e poi un bel tratto di costiera fino a Positano. E poi quest'anno si regionalizza la manifestazione toccando alcuni posti molto belli di Ottaviano e Castellammare di Stabbia con la Baida del Reda per Ottaviano e il circolo velico per Castellammare nonché il liceo Severi di Castellammare. Abbiamo tre amministrazioni coinvolte, tantissimi lettori, turisti, gente che ha piacere anche di viaggiare sui traghetti di Travelmar, si rinnova quindi questa manifestazione che ha raggiunto la ventesima edizione e facciamo cultura e ci godiamo anche l'estate con qualità.